Sentite quanto sono croccanti Non hanno nemmeno la farina Prendo 140 grammi di lenticchie rosse Le metto nella ciotola E verso sopra 250 grammi di acqua bollente Non ti bruciare Eliana? No no E ora le lascio riposare per 15 minuti Ecco le lenticchie dopo 15 minuti Come vedete hanno anche assorbito l'acqua Quasi tutta E quindi adesso le mettiamo direttamente nel frullatore Chiudo e frullo bene il tutto Andiamo a controllare Perfetto Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere Quindi molto morbida E ora questo composto di acqua e lenticchie Lo metto direttamente in una pentola Aggiungo due pizzichi di sale Della paprika dolce Dell'agno in polvere E del pepe Diana vedo tutti ingredienti interessanti Ma che cos'è che stiamo preparando oggi? Oggi prepariamo una ricetta sfiziosissima Senza farina E croccante Eh ma allora tu mi leggi nel pensiero A me queste cose piacciono un sacco Lo sai Eh lo so Lo so Ora ci spostiamo di là ai fornelli Quindi accendo E faccio cuocere questo composto Per circa 5 minuti Continuando a mescolare Ok direi che ci siamo Quindi come vedete Questa consistenza è un po' simile Alla polenta Avete presente? Quindi spegniamo E ci spostiamo di là Ora metto il composto In un contenitore di vetro Io ce l'ho scelto quadrato Ora con la spatola Appiattisco bene Uniformemente E ora mettiamo in frigo Per un paio d'ore Ecco qui pronto il nostro composto L'ho tirato fuori dal frigo Ed è diventato Praticamente Più sodo Quindi adesso Prendo un coltello E vado a dividere Il composto In quattro parti Faccio la stessa cosa Anche dall'altro lato E ora Rimuoviamo I quadratini Che abbiamo ritagliato Li mettiamo tutti su un piatto E ora Questi finiscono direttamente Nel cestello Della friggitrice Ad aria Questo è un esperimento Quindi se riesce Dovete condividere tutti quanti Il video Spennello con dell'olio E li cuocio A 185 gradi Per 15 minuti A dopo I nostri quadratini croccanti Sono pronti Ma prima di andare a vederli Lasciate un mi piace a questo video Condividetelo anche Mi raccomando Perché questa ricetta È la svolta 3 2 1 Wow Non ci credo Vediamo Vediamo quanto sono croccanti Non ci credo Wow Ma senti? Ma sono croccanti Diana Ma come è possibile? Eh non lo so Ma perché buoni sono Saga Aspetta Wow Wow Questi sostituiranno le patatine Vero? Mhm 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 Mhm